Benissimo, stanno andando le cose per la K-Group, parliamo ovviamente di pallavolo, dopo l'inizio tutto in salita, è arrivato il quarto successo consecutivo per il sestetto Granata, nulla da eccepire sulla legittimità della vittoria su Olbia, ha spazzata via la formazione isolana con parziali di 25-23, 25-23 e 25-13. In realtà il primo e il secondo set hanno visto gli ospiti prendere il largo nelle fasi iniziali, ma con il passare dei minuti la K-Group è riuscita poi a rimontare e anche a conquistare il parziale. Qualche recriminazione per alcune decisioni degli arbitri che hanno messo in difficoltà il sestetto di Ruggero Tosi, ma alla fine è emersa la maggiore personalità e anche la serenità che sta sorreggendo i ferraresi in queste ultime gare. Oltre al solito Gallotta, da sottolineare le prestazioni di Agosti e Lirutti, terzo set, dicevamo poi che si è trasformato in una passeggiata come testimonia, il 25-13. Conclusivo sale a quota 13 la K-Group 4 Torri Volley in compagnia di Olbia e Tuscania al quinto posto, lì chissà, addirittura soli due punti dalla zona playoff. Si apre qualche speranziella dopo i timori dell'inizio di campionato, ma d'altro canto i recuperi di alcuni giocatori importanti sono risultati determinanti per il rilancio.